Grazie a tutti. Questo è Dave, che sarebbe Davide. Lui lo dice con un po' di accento vero della regione dalla quale viene. Now, what is your name? Alan. Poi qui abbiamo... Martin. Martin, are you a boy or a girl? You're a boy. Voglio chiesto se è maschio o femmina perché sembrava una femminuccia. Ok, ma avete già scritto. Grazie a tutti.